Giornate all'insegna degli incendi in Toscana. Nelle ultime ore sono stati addirittura 16. Molti di essi hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei da parte di personale dei Vigili del Fuoco. Il più esteso è l'errogo divampato sulle colline di Montieri, nel Grossetano, che ha interessato anche le comune di Chiusdino, in provincia di Siena. Importanti gli incendi anche in diverse zone della Garfagnana. A favorirli, manco a dirlo, la siccità. In tutta la nostra regione, se si accettua quella che è l'isola di Ilba, che è un punto un po' particolare, però è un'unica stazione, quindi andrebbe un po' di vista, in tutte le nostre aree della nostra regione abbiamo colori che tendono verso l'arancione. Quindi c'è un aumento di questi giorni secchi e quindi un aumento in prospettiva di quello che è la siccità. Infatti, più che la temperatura, che ha un andamento lineare abbastanza ormai noto come trend, quello che è più problematico è la gestione della risorsa idrica. In attesa delle piogge previste per i prossimi giorni, le condizioni climatiche richiedono ancora la massima attenzione, in particolare per le attività svolte in campagna e il rispetto del divieto di abbruciamento in vigore su tutto il territorio regionale. Ma per il mese di aprile cosa c'è da aspettarsi? Difficile ancora dire quale sarà l'andamento del mese di aprile. Al momento le previsioni stagionali non danno dei segnali proprio precisi su un andamento diverso. Quindi sembrerebbe possibile una situazione abbastanza nella normalità e quindi con le piogge che ci aspettiamo. Però è tutto da vedere.